Un breve saluto, ancora due brevi saluti. Don Luca De Lunghi, responsabile dell'Ufficio Catechistico di Cezani. Io sarò brevissimo, brevissimo perché mi sento piccolo, dicendo a Giugiole, sono il mio professore. Devo proprio essere attento a quello che dico e a quello che faccio. Ma in realtà io quello che spero e che condivido con voi è che il settore dell'Apostolato Biblico quindi oggi si possa essere, una cosa che il Cardinale non ha sottolineato nel decreto, possa essere un buono strumento di comunione in quel grande cantiere che abbiamo delle unità pastorali. L'ho visto in fieri, nel primo incontro che abbiamo fatto, condividendo un pasto insieme, un po' progettando quello che poteva essere anche questo incontro. E quello che mi aspetto veramente anche nella collaborazione con l'Ufficio Catechistico e gli altri uffici di tutto quell'elenco che ha messo il Cardinale lì in quel decreto è veramente la possibilità di mettere insieme una diocesi che tante volte sembra frantumata, frastegliata, così tanto distante. Siamo in realtà una piccola diocesi anche se siamo così tanto espansi territorialmente, però abbiamo bisogno di avere un ponte e veramente la parola può essere questo, una via di comunione in quello che è la realtà che stiamo vivendo. Grazie. Perché senza di lui l'Ufficio non si apriva, è stata una delle persone a cui mi sono affidato, è stato un mio studente, ma ora è responsabile di un Ufficio cruciale nella diocesi. E abbiamo solo la fortuna di avere un altro esegente, il padre Gianni Capelletto con noi, che insegna l'Antico Testamento all'Istituto Teologico di Assisi, ma abbiamo anche Don Giovanni Zampa, collega, esegenta, responsabile dell'Apostolato Biblico di Foligno. Oh, grazie, vedi che infatti... Grazie. Cosa? Ah, era il cappuccio quello che causava lo spazio. Prova, prova. Prova, prova. Prova, prova. Prova, prova. Don Giovanni Zampa che ho visto arrivare e che invito, ed è il responsabile dell'Apostolato Biblico di Ocesan, della diocesi di Foligno. Prova, prova, questa funziona. Andiamoci. Buonasera. Allora, io per formazione professionale non posso che trovare due icone bibliche per dirvi quello che è la situazione... a me stavo chiesto di parlarvi dell'Apostolato Biblico in Regione perché sarei pector e responsabile della Gerenza. No, 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 no. Ok, io quindi ho due immagini bibliche. Il primo la prendo dal libro della Genesi, al capitolo 2, versetto 10. Dice, un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiama Pison, esso scorre attorno a tutta la regione di Avila, dove si trova l'oro, e l'oro di quella regione è Fino, vi si trova pure la resina odorosa e la piesa donice. Il secondo fiume si chiama Gikon, esso scorre attorno a tutta la regione di Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri, esso scorre a oriente di Assur, il quattro fiume è l'Eufrate. Ecco, il grande fiume della parola di Dio nella nostra regione, potremmo dire, scorre su quattro canali, si divide almeno in quattro corsi. Il primo è il Magistero dei nostri Vescovi, perché una cosa interessante è che negli ultimi vent'anni tutte le diocesi dell'Umbria hanno fatto un sinodo, e se noi andiamo a leggere tutti questi sinodi sono impregnate di Sacra Scrittura e soprattutto esortano caldamente a mettere al centro dell'attività pastorale, di ogni forma di apostolato, la Sacra Scrittura. Il secondo fiume è l'Istituto Teologico di Assisio e le grandi forme accademiche che ci sono in tutte le regioni dell'Umbria. Qui, se ci avete fatto caso, nei primi due versetti si parla proprio di regione. Ecco, in regione, oltre all'Istituto Teologico e alla Scuola di Scienze Religiose, praticamente tutte le diocesi hanno scuole diocesane di teologia, dove sono presenti corsi di approfondamento esegetico e teologico. Nonché c'è un altro aspetto molto interessante a livello regionale, negli ultimi anni, noi ne siamo un po' anche il frutto, tutte le regioni dell'Umbria hanno investito sacerdoti nel studio delle scienze bibliche, o teologia biblica o Sacra Scrittura e Cegesi. E quindi questo è un altro patrimonio del vostro lato biblico da tenere in considerazione. Il quarto fiume è tutta la grande attività catechetica dei nostri catechisti, dell'iniziazione cristiana, della pastorale giovanile dopo Cresima. Ormai è palese e acquisito che tutti hanno fondamenti biblici, tutti ormai lavoriamo con strumenti più o meno evoluti e approfonditi di Sacra Scrittura. E il quarto grande alveo dove scorre questo fiume che esce dal cuore di Dio è i movimenti e le associazioni. Cioè è evidente, poi forse qui a Perugia è più chiaro che in altri, movimenti, associazioni, cammini, tutti ormai sono particolarmente radicati e fanno riferimento alla Sacra Scrittura. Ecco, questi sono i quattro grandi fiumi. C'è una seconda immagine che va a commento della prima, la prendo dal libro di Giobbe, perché la Sacra Scrittura è un po' bastonata come Giobbe. E al capitolo 6, al versetto 15, tenendo conto, tenendo sempre l'immagine del fiume e del torrente, troviamo questa espressione. I miei fratelli sono incostanti come un torrente. Ecco, questi quattro grandi fiumi esistono, ma sono incostanti. Cioè è vero che esistono dei sinodi, ma non so quanti di noi conoscono quei sinodi o hanno messo in pratica quei sinodi. Ci sono esperienze anche positive, per esempio, vedo davanti a me, l'esperienza di Assisi, che sapete che dal seno sono usciti sei anni di scuola della parola. Che è una cosa molto interessante. E anche abbastanza partecipante. Però, io vengo da Foligno dove la stessa iniziativa non ha avuto lo stesso successo. Dice, i miei fratelli sono incostanti come un torrente, come l'alveo dei torrenti che scompaiono. Ecco, purtroppo la Sacra Scrittura è un fiume carsico. Ogni tanto viene su, poi sparisce, poi torna su, va di moda, poi risparisce. E quindi abbiamo questa dinamica. Poi Giobbe aggiunge, sono torbidi per il disgelo. Cioè ci sono, nel senso, ci sono momenti in cui la parola di Dio dilaga. Arriva a quantità industriali. Cioè, pensiamo ai nostri giovani durante la giornata mondiale della gioventù. Si fanno un'overdose di Sacra Scrittura perché gli arriva il disgelo dell'evento. Però, la primavera dura poco. Oppure sono altre esperienze, no? Tantissime altre esperienze che vanno più o meno, sono l'esperienza di moda. Non parlo, forse a Berugia no, però da noi per esempio a Foligno c'è stata la grande stagione del disgelo dei Dieci Comandamenti che ora invece assiste ad una stagione diversa. Non a caso Giobbe aggiunge, si confiano agli sciogliersi della neve. Quindi c'è il momento di piena. Dopodiché, ma al tempo della siccità, svaniscono. Pensiamo, per esempio, al grande problema della formazione dei catechisti. C'è stato, per esempio, il periodo dell'incontro regionale, del convegno regionale, che è stata un'esperienza molto bella, però è durata una stagione. E conclude Giobbe. E all'Arzura scompaiono dai loro letti. Ecco, speriamo, posso autobiograficamente, anche a me hanno mandato a studiare Sacra Scrittura, poi mi hanno dato cinque parrocchie. Per tutti noi siamo stati mandati a studiare Sacra Scrittura. Io ho studiato con Nisi, sono contentissimo, proprio compagni. Io sono contentissimo, per esempio, che con lui è stato fatto un trattamento diverso. Ecco, perché... No, nel senso, io poi ringrazio tantissimo la pastorale, perché mi ha dato un modo... Adesso abbiamo avuto un esegesi di Giovanni e di Matteo, non più che ispirata, no? La parola veramente si è fatta carne, quindi più esegesi... Dio nessuno l'abbia visto, ma Dio ce l'ha esegetizzato, ce l'ha fatto per Meneudica, quindi... Quindi grazie di questa esegesi. Quindi ringrazio tantissimo la pastorale, però c'è oggettivamente un problema di studio. Per questo è importante l'apostolato biblico, perché molto spesso la dimensione pastorale cancella l'approfondimento esegetico e teologico, e quindi in Umbria abbiamo un buon letto, ma qualche volta è un letto che diventa... Un buon fiume, ma qualche volta diventa un rigagnolo. E adesso speriamo che finisca la siccità e piova. Auguri, buon feste!